Ma io penso, dobbiamo partire dal presupposto che il mondo di ieri non lo ritroveremo dopo. C'è un problema di visione, la grande differenza che c'è tra Conte e Draghi, che una visione ce l'ha, Draghi. Se uno va a vedere il rapporto dei 30, che cosa diceva in quell'occasione? Che poi è esattamente quello che noi abbiamo visto nel servizio che avete dato. Cioè nel senso che tu, nelle grandi crisi, nelle guerre, puoi avere anche una grande occasione per ristrutturarti, puoi addirittura andare oltre. Però devi sapere dove devi arrivare. Quindi tu devi mettere nel conto una ristrutturazione e cambierà anche il modo di vivere, il modo, diciamo, di produrre. Se hai queste idee chiare, allora probabilmente, diciamo, questo potrebbe anche essere un modo per andare avanti. Se invece cerchi di guardare al mondo d'oggi con gli occhi di ieri, rischi di avere soltanto delle grandi delusioni. Scusate, posso intervenire un attimo? Volevo proprio aggiungere che è esattamente questo il tema. Cioè l'Italia del dopoguerra ha creato la Costituzione, ha dato il voto alle donne, e vediamo l'Italia del dopoguerra che cosa riuscirà a...